Sono ripresi al Palasport e Nando Di Leo gli allenamenti delle formazioni di basket che hanno archiviato una fine settimana a positivo e anche per concentrarsi verso il finale d'anno in cui veramente potrebbero esserci delle novità importanti, soprattutto anche da un punto di vista sia della classifica che del fattore psicologico. Ne è convinta la Castellano Udas in Serie C nazionale. I ragazzi di Matteo Totaro dopo la bella vittoria ottenuta contro lo Stuni si preparano ad affrontare il Bernalda che seppur è legato nelle ultime posizioni in classifica non è da sottovalutare. Stessa cosa dicasi anche per l'Olimpica Basket. Nonostante sia la capolista del torneo non può permettersi passi passi sabato prossimo contro un avversario che seppur in condizione limitata è in grado comunque di poter non di certo fare la differenza ma quantomeno metterli in difficoltà sabato prossimo nel confronto casalingo.